Oggi vi voglio parlare di Be My Cat a Film4N Un film found footage Per chi non lo sapesse i film found footage sono i film finti ritrovati Finti ritrovamenti di filmati Del 2015, un film rumeno di Adrian Toffey Scritto e prodotto da Adrian Toffey, ma non solo Mi è arrivata questa splendida edizione della Tetrovideo È praticamente un media book questo Adesso ve lo faccio vedere cambiando inquadratura full screen Così lo vedete un po' più grande C'è una cartolina, scusate, qua Una cartolina del film e il DVD Il film è in inglese, perché è recitato in inglese Edizione limitata a 100 copie Sono veramente edizioni super 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 per collezionisti Perché 100 copie sono veramente poche Mi piace molto la grafica comunque La trovo molto stilosa Ha una sua personalità la Tetrovideo Ha un suo stile, una sua personalità Si distingue bene dai prodotti di altro genere Il film è recitato in inglese E ha i sottotitoli Sicuramente in italiano perché io li ho letti Siccome l'inglese non è proprio il mio forte E in inglese e in francese Praticamente racconta la storia di Adrian Un regista ossessionato da Anne Hathaway In particolar modo è ossessionato da E da qui si ispira anche il titolo del film Perché il film si chiama Be My Cat È nato e ha interpretato la gatta La gatta, come si dice, di Batman Come cazzo si chiama E nel film e quindi Be My Cat Insomma Comunque ossessionato da Anne Hathaway Decide di girare un film Da solo, con una telecamerina Per mostrarlo all'attrice Inviandogli, credo E convincerla a lavorare con lui Chiaramente Già così Che Tuoman, esatto Che Tuoman, scusate la facile Ma ho avuto un momento di Sì, esatto Che Tuoman, c'è un film Dove è interpretato da Anne Hathaway Possessionato da Anne Hathaway E lo capisco Comunque è una bellissima donna Però adesso Datti una calmata Comunque Già così sembra un pazzo Sembra un mitomane Come si suol dire Per fare questo film Lui invita Delle giovani attrici Avita delle giovani attrici Tra cui alcune che proprio assomigliano Hanno delle caratteristiche Che vagamente ricordano proprio Anne Hathaway L'invita Gli fa un provino E poi non vi dico niente Perché Ovviamente è un pazzo Maniaco E succederanno delle cose Vediamo il trailer Così entriamo nel mood Della cosa E poi vi parlo un po' del film Grande Silvano Grazie mille Per essere abbonato al canale Un minuto di silenzio Così la ragazza può urlare Passiamo all'inquadratura Per il trailer Dunque guardiamo il trailer Ciao Anne Mi nome è Adriano Sono da Romagna E voglio fare un film con te Io vi ho visto In Dark Night Rises E io vi ho visto Spendendo a quella Catwoman E sei Tu sei la mia attrice I even convinced Three Romanian actresses To play in this film To show you How I'm gonna work with you On Be My Cat On the movie That I want to make with you They don't know I lied to them The actress needs to be skinny And I'm not skinny enough for you No How can you say that I could have tried When the start The something got I forgot the lyrics Oh my god Fuck You're a shit actress You know that No You don't want to find the solution If you don't leave me I call the police And your goddamn movie Will not ever be made Don't like boys and dogs They are They are all bullies Mean 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 people And mean animals I like only girls The girls are So sweet and cute Just like cats I love I love girls and cats Oh my god A dead cat I got to know Don't get it wrong Don't get it wrong Please Please understand this Okay Music You have 20 seconds To give me One last word And then I will close The camera I will change the world With you Eh fantastico Fantastico Eh Il trailer è figo Allora Ti è fatto bene Perché il trailer Spiega un po' Come Che stile Di cosa parla il film E lo stile che ha L'urlo finale Aiuta Aiuta tantissimo Allora Oltre ad essere Vabbè Un font footage Dove vedete Che c'è questa telecamera Tenuta a mano Però è una telecamera Tenuta a mano Veramente tenuta a mano Non è come Se guardate magari Un Cloverfield Dove Non lo so C'è C'è questa C'è questo sapore Artificioso Nel font footage Ciao Ciao Dani Eh Qua è proprio Cioè È veramente Tutto molto real Eh Infatti Adrian Fa una cosa Che io amo Tantissimo Nel cinema indipendente Cioè Fa tutto in casa Con i mezzi che ha Si scrive una storia Che Si può realizzare Praticamente Applicando la sua vita Eh Perché Alla fine Lui è un regista E quindi È quasi Metacinemat È metacinematografico Questo ma anche Altre cose All'interno del film Nel senso che Lui è un regista E questo sembra Veramente il film Che lui fa Per 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 È Nataway Poi Insomma Succederanno Delle cose Mi è piaciuto Molto Perché All'inizio Sembra Boh Bisogna un po' Abituarsi a questa Fotografia Da Da telecamera Un po' cheap No Della telecamera Non costosa Un po' Da Cioè Quelle che Compreremmo noi E E lui parla Con una discreta Naturalezza Avanti alla camera Io non so bene Se questo sia Anche un po' Il suo modo di essere Oppure no Però io devo dire Che Alla fine Lui parla È molto simpatico Il personaggio Di Lui si chiama Adrian Anche nel film Quindi Anche in questo È praticamente Un gioco Del Creare un Finto Maniaco Che in realtà È lui Infatti Sinceramente Non è un soggetto Che io intervisterei Dal vivo Ecco Sì Non è Non è autobiografico Nel senso che Lui non è Veramente ossessionato Da Nata E Almeno Non credo Però L'idea È figa Secondo me È figa L'idea Di creare Tutto su Questa Cosa Di Anatomy Poi in realtà Non parla di Anatomy Il film Parla Di psicopatia Comunque lui è molto bravo A recitare Secondo me Riesce molto bene A convincerti Si vede Si vede che si è impegnato Molto Nel girare le sue Parti E all'inizio Ispira simpatia È un po' Strambo Ride Spesso Fa delle risate Finché Piano piano Verranno fuori Delle cose Entreremo molto In sintonia Con lui Finché A un certo punto Non ci accorgeremo Che È matto Ma matto Pericoloso E quindi Secondo me È veramente Un film Molto Molto Riuscito E Soprattutto In relazione A I mezzi Che sono stati usati Perché qua Cioè io Io vorrei Veramente La capacità Di fare Un film così Perché Lo potrei fare Cioè Nel senso I mezzi Che lui ha usato Io ce li ho Quindi La genialità E tirar fuori Qualcosa di Fruibile Che ha qualcosa A dire Interessante Con niente Con una telecamera A casa propria Poi ci sarà Delle altre scene All'esterno Tre attrici Poi probabilmente Anche qualche Comparsa Amici Che lo hanno aiutato Ma veramente Poche persone Anche le ragazze Sono abbastanza brave Anche se io ho trovato Quello più in palla È lui Secondo me Quello più credibile Comunque loro Sembrano veramente Attrici Che vanno per un provino Cioè Tutto molto Real Molto reale Molto E poi All'interno Chiaramente È un esempio Molto Riuscito E brillante Di metacinema Perché è un continuo Confondersi Tra ciò che è La storia E ciò che è lui Come regista Quindi È molto È molto intelligente Tra l'altro Essendo fuori Dal 2015 Ha fatto in tempo A guadagnarsi Una miriade Di premi Che non sto neanche Ad elencarvi All'interno All'interno Chiaramente I temi Che sono Trattati Sono La Psicopatia Di Adrian Che A un certo punto Svelerà Verrà svelata Verrà un po' Sì Verrà un po' Psicanalizzato Dalla storia Il personaggio In una parte Molto inquietante Anche E anche Triste Un po' Drammatica E poi Chiaramente Ci sono anche Dei richiami Delle Diciamo La volontà Comunque Secondo me Di parlare Anche di problematiche Come lo sfruttamento Della prostituzione Insomma Problematiche Anche un po' Più sociali Politiche Che riguardano La Romania Eccetera Beh Comunque È un film Veramente Molto interessante Tra l'altro Disponibile In Cioè Disponibile In italiano Cioè in italiano Nel senso Con il sottotitolo In italiano Solo con questa edizione Di tetrovideo Per cui Io spero che possa Arrivare anche In qualche altra forma Su qualche piattaforma In modo legale Così che Possa essere anche Visto da più persone Perché secondo me È una visione Piuttosto piacevole Per chi ama I film un po' Disturbanti Questo è un film Che Sì Ha delle scene Di violenza Però anche lì È stato usato Un sistema Che io trovo Veramente Apprezzabilissimo Che è il non visto Cioè Il film è estremamente Violento Ma non vedi Effettivamente Quindi con degli Escamotage Tipici di tantissimo Il cinema Non vedi cosa succede Ma il risultato È lo stesso Quindi funziona Funziona alla grande Credo che sia ancora Disponibile Qualche copia Quindi Non lo so Forse poi controllo Al massimo Vi giro il link No È out of stock Ovviamente 100 copie Però Se siete interessati Scrivete Non si sa mai Che possano fare Un'edizione Magari non da collezione E da fruizione L'edizione è fighissima Sono veramente pezzi unici Questi Secondo me Averceli E cinema super indipendente Avercelo in questi Formati così belli È Qualcosa di Veramente strafigo Secondo me Tra l'altro Niente Questo è tutto Per la recensione Di Be My Cat Siccome questo video Lo carico anche su YouTube Se volete lasciare un commento Lasciatelo Iscrivetevi al canale Seguite il canale E soprattutto Venite su Twitch Per la recensione Per la recensione Per la recensione